Tra i partecipanti al Focus Tour Prima Tappa qui a Torino del 2020, Alberto Tessari, dello studio ProEco di Torino, tra l'altro che ha partecipato con due collaboratori. Quali le sue impressioni di questo corso? Il corso è stato di ottimo livello, soprattutto sono rimasto colpito dal clima che si è instaurato nel corso per la capacità degli oratori di coinvolgere i partecipanti, perché altrimenti diventa spesso pesante per i partecipanti al corso essere parte attiva se non vengono coinvolti con delle domande di carattere tecnico. Ma soprattutto si è rimasto colpito dal livello degli oratori, sia per la parte di allarme e evacuazione, rivelazione d'incendio e sulla parte dei cavi che è difficilmente riscontrabile in altri corsi una persona preparata come l'ultimo oratore. Benissimo, quindi queste normative continuano ad evolvere. Quanto è importante la formazione per voi progettisti? Per noi è fondamentale perché il progettista, se vuole essere tale al giorno d'oggi, deve dedicare tantissime ore al proprio lavoro, perché il progettista fa progettazione, direzione di lavori, collaudi, messi in servizio di impianti di fianco agli installatori. Quindi difficilmente si ha il tempo di documentarsi. In questi incontri, chi è preparato e preposto a questi incontri è in grado di spiegare bene al progettista l'evoluzione normativa che cambia rapidamente. E in effetti lei è proprio venuto con due collaboratori anche. Esatto, devo dire che noi nel nostro studio spesso facciamo questi incontri e io sono entusiasta quando i miei collaboratori mi seguono, pur sapendo che magari dobbiamo poi comunque fare altre consegne di altri impianti, però se i nostri collaboratori fanno questi corsi e diventano più preparati, per me è anche più facile non dover controllare tutti i progetti.